segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te il sogno è il ballo del doge l'appuntamento più lussuoso e mondano del carnevale di venezia non è per tutti e vediamo cosa può servire prima tappa l'albergo giusto stiamo aspettando l'arrivo di una copia di ospiti e che questa sera parteciperà al ballo del doge prego la doge dando lo royal suite questa è la camera da letto se le camere all'hotel daniele costano oltre i mille euro a notte per la più ricca di storia si possono fare follie la tariffa della suite confidenziale è su richiesta più di 10.000 siamo al di sopra sì poi occorre un costume all'altezza della serata qui nell'atelier di antonia sauter anima e creatrice del ballo del doge i prezzi dell'affitto vanno dai 400 fino alla fine del mondo possono arrivare fino a 10.000 euro sembra oro 280 mila euro solo la pietra solo la pietra sì perché per essere perfetti qualcosa di veramente prezioso non può mancare in italia sono soldi e c'è gente che li spende anche ora si può entrare al ballo dietro al lusso lavorano tante persone quanto ha speso per questa serata mai abbastanza grazie a tutti